bella ragazzi migliorati costantemente da digno oggi dopo moltissimo tempo torniamo con una reaction empoli napoli speriamo andrà bene questa partita mio pronostico era un 2 a 4 del napoli reti di ori bro vabbè anche se al contatto vabbè poi 11 leoni adesso partiamo stanno entrando in campo andiamo ok vara vai ozzano autogol autogol 1 a 0 andiamo 1 a 0 e andiamo ismaili ismaili autogol vabbè è stato un quarto d'ora 17 minuti buono buono dai 1 a 0 1 a 0 1 a 0 io mi sono scordato di riprendere alcune azioni adesso sta attaccando in uno il napoli ok vai vai c'è simen c'è simen oh simen 2 a 0 2 a 0 2 a 0 signori allora ripreso solamente due gol però forse anche io nel secondo tempo cercherò di riprendere più azioni 2 a 0 autogol di ismaili e godius man al 21esimo alla mezz'ora e adesso ripartiamo con il secondo tempo signori attacca l'empoli vai mario lui copri oh fallo no viene triblato minchia va per far gol l'empoli signori mario lui però là era fallo eh guarda angolo empoli vai barchi ciuchi convinto convinto ciuchi convinto ah bravo no zelischi non ce l'aspettavo per passaggi possesso ancora dell'emboli parascheglia indietro per zelischi ma di lui non tornate indietro però attaccate racmani dai non chissà bravo eh bravo un cazzo ancora empoli per recuperare un altro pallonello botca e niente no se adesso l'empoli prova a far gol osimen brava osimen va vai via paronello da kvara vediamo se gli arriva bravo kvara vattene vai via vai via vai via vai via vai via zelischi no zelischi sta facendo cagare chissà fuori mamma mia zelischi lo deve togli perché sto facendo schifo messa laterale dell'empoli chi c'è dell'empoli vai pressato è pressato bravo lo zano lo zano sta ma come farlo dai lo zano ultimamente sta giocando molto bene anche chissà lo zano mettiamo in mezzo osimen no ma devi fare un po' più alto anche chissà lo zano no di quanto ha sfiorato il palo ha sfiorato il palo dai 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 vai buono 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 lo zano di lorenzo ma chissà dai fate qualcosa oh che cazzo lo zano dai di lorenzo non chissà guarda nooo un po' troppo lungo il palo per un chissà ok è ancora 55 non ce ne è di tempo non l'ha proprio toccato a Parisi dai lo sbotta chi minge mario scivola però lo stesso arriva di lorenzo lo zano lo zano dai bravo di lorenzo nooo osimen angolo lo sta lo sta mi dovrebbe essere dritto undici leoni undici leoni dai dai angolo facci bene un ball o kim osimen di sesta kim non segna da un botto dai 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 guarda che dai 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 ma non è fuori altro angolo napoli è sempre mario giusto a ziliski vicino però non si sa chi batta io mario c'è ziliski lì però per me la devi mettere in mezzo ok e no la dalla mare lui ma perché è così largo guarda kim guarda no cosi me non lo vedo molto 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 attivo come nel solito però comunque ha fatto cose anghissà lo vedo più attivo del solito anche se negli ultimi periodi non ho fatto un gran can anghissà solo all'inizio stagione era un grande ancora angolo ziliski marioi marioi ziliski me ce le metto stavolta e niente oh ziliski lo zano ziliski lo zano no non c'è nessuno bravo e chissà guarda fatti vedere mario mettila che quando la crossa mario c'è sempre così eccolo no di lorenzo adesso e niente pure di lorenzo si ha fatto eo è pessimo lo sbotka a di lorenzo che sta facendo ozimene victor ozimene no perché fuori gioco fuori gioco cos'è ho la presa di mano mai fuori gioco no neanche tante proteste perché forse era netto andiamo è abbastanza è fuori gioco va bene va bene sessantesimo ancora 40 minuti di lorenzo daje il ciù bravo oh trattenuto ah vaffanculo giallo pure per ollozano sto scemo mario in mezzo io non so chissà so no imma sbaglio quello è scivolato oh si va boh quello è scivolato da solo ha fischiato perché si è fatto che è successo manca e lui che è scivolato ma no ha fatto un contrasto sarebbe fallo su perché ha dato una comitata addosso a mario e lui signori non si sa se ha fatto falla tutto un calcio nelle palle ha caputo vediamo se lo spell ma rosso per mario lui ma rosso per mario lui probabilmente non potrà più avere fibre signori scusate è caduta la cam comunque varaschelia sinistro è torsino sinistro perché mario lui è espulso non so perché hanno detto gli organisti che salterà non solo salterà solo la prossima ma anche quella dopo non ho capito perché vabbè 0-2 ancora settantesimo vediamo se qua fa qualcosa l'Empoli oh lo bocca bravi fallo del Napoli a fare sulla vodka non è che l'ha fatta la vodka giusto ok angolo per Napoli dopo è stato spulso Mario Mario che poi è un uomo importante rimessa adesso perché ha chiuso vanno chiuso quello quelli degli Empoli di Lorenzo dai dai vogliamo vedere il 3-0 ma chissà dai usino un altro gol che cazzo fa Helmos passa mezzo al 2 e vedi che cazzo fa passa mezzo al 2 ma io non capisco perché tornano indietro ma attaccate e vanno da Meretto fino a Meretto e attacca l'Empoli piace farlo per il Napoli sempre lo bot che attaccano perché per noi è piccolo capito però e adesso per il Napoli minuto 79 ma non so che il rischio lo vedo molto cattivo quindi tira il rischio per me tira in porta è molto potente però se tira potente probabilmente becca la barriera ma no l'ha data Ozyman che ha tirato lui ha tirato una scorreggia Ozyman Ozyman ha finta tira fa fuorigioco altro fuorigioco per Ozyman ma hai dribblato lui perfetto dribbla pure il secondo però poi non ti allora che cacchio fai tira direttamente in porta ma è fuorigioco nettissimo ma nettissimo questo finta anzi questo forse sarebbe vediamo se riguarda è una spintarella cioè ma non lo so però non penso infatti vabbè ora fa il gioco quindi ottantesimo anch'issà signori è il mass angolo angolo ennesimo tipo undicesimo la volta Elmas dopo 10 caccio l'angolo solo di Zelisky e Mario lui Elmas la mette in me minchia ho visto Ozyman con non con la testa che colpisce la palla in porta direttamente la testa in porta proprio la testa ha messo in porta minchia Zelisky con la sua qualità di tac Elmas in mezzo e tira e guarda Ozyman no 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 il portiere uscito col piede è vicario un bravo grande un gran portiere fortissimo ha fatto una gran parata c'è Simeone pronto dai si fa un altro gol prima che entra Simeone dai che occasione ha sprecato stava partendo Simeone porco due ah Olivera qua dai Elmas vai attacchiamo Cosimeone Cosimeone è tornato sulla fascia Zelisky Elmas ma in mezzo Simeone devi fare gol signori intanto è uscito Simeone è entrato Simeone Elmas sta giocando piuttosto bene Simeone dai Simeone il tiro parata di Vicario mamma mia Simeone fa un altro gol anche lui sta facendo una gran stagione la mette fuori attenzione il minuto 85 proprio adesso dai Simon 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 Elmas Simeone tiro deviato andiamo riparte l'Empoli o il Napoli anche sa Zelisky tacchettata punizione Napoli signori dai Simeone batte o no ah no Simeone è me c'è Elmas e Zelisky per me se Zelisky tira fa gol anche se da qua è impossibile Elmas soffia si sospira fa come Messi quindi non si sa mai che la Elvis fa gol da quella posizione Elmas il tiro sopra lo stadio signori Gaetano Gaetano no sul dai Gaetano mamma ho capito che se è una riserva ma pure davanti alla porta la metti sul fondo della rete non importa ma come si fa dai finisce qua 2-0 0-2 Mario lui è espulso ma non fa niente autogol di Ismaili e gol di Ozyman questa reaction non può moltissimo tempo vi sia piaciuto vi sia piaciuta e niente se la kabulista se ne va se ne va se ne va lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere mai su un video noi ci rivecchiamo in un prossimo video bella ragazzi grazie grazie